La protezione civile bergamasca ancora una volta si rende disponibile? Sì, ma innanzitutto desidero sia a titolo personale che a nome ovviamente anche del presidente Pirovano portare il massimo cordoglio alle famiglie che hanno avuto dei dispersi e dei deceduti in questa immane tragedia. Al contempo voglio portare la solidarietà all'intera comunità sarda per l'accaduto. Io desidero ringraziare innanzitutto tutti i volontari della protezione civile sia singoli che le organizzazioni che come di consueto già dai primi minuti della tragedia si sono messi immediatamente in collegamento con noi per garantire la propria disponibilità ad un eventuale intervento. A tal proposito volevo comunicare e mi sembra corretto informare tutti che ho formalmente scritto a Regione Lombardia mettendo a disposizione ogni singolo uomo, ogni singolo mezzo, ogni singola attrezzatura unitamente all'intera colonna mobile provinciale messa appunto a disposizione di Regione Lombardia per valutare se vi fosse la necessità di un impiego. La provincia di Bergamo non può in queste occasioni come di consueto nel passato farsi trovare impreparata anche per portare sollievo a quella che è una comunità sì lontana ma anche molto vicina.